Direi che dopo la finale di Eurolevo, dove ovviamente non abbiamo vinto perché siamo arrivati nel secondo, comunque non è un risultato infamante, ma c'è stata una conferenza stampa squallida di un procuratore che si chiama Porter e di un giocatore che si chiama Griffith. Dicevo squallida perché all'interno di quella conferenza stampa, per quello che ho letto sui giornali, io non c'ero, si era parlato di tante cose, perché è vero che si era parlato di soldi, ma si era parlato anche di altre cose. Allora questo succedeva dopo una finale di Eurolega, ma perché? Pensavano che parlassimo che avevamo perso per tanto tempo e l'avremmo smessa subito come abbiamo smesso subito quando siamo usciti dal campionato italiano.